Con la relazione dell'assessore al bilancio della Regione Campania, Ettore V, la Commissione Bilancio e Finanza del Consiglio regionale ha incardinato l'esame del documento di Economia e Finanza della Regione Campania per il triennio 2023-2025. Sanità e lavoro sono i principali obiettivi politico-programmatici. Intanto è stata incardinata da parte della Sesta Commissione regionale la proposta di legge per l'istituzione del servizio di psicologia scolastica. Un testo redatto dall'ordine degli psicologi della Regione Campania che ha trovato grande disponibilità da parte del Presidente della Commissione Bruna Fiola. Ne abbiamo parlato con il consigliere Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva. La legge sullo psicologo scolastico è una legge importante e fondamentale per dare un'assistenza adeguata e concreta soprattutto al mondo della scuola. Quando parlo del mondo della scuola mi riferisco non soltanto ai ragazzi ma anche ai docenti, alle famiglie, ai tanti disagi che ci sono oggi nel mondo giovanile e nel mondo della scuola, soprattutto dopo due anni di pandemia sono venuti fuori una serie di criticità e una serie di problematiche. Ricordiamoci che noi viviamo nella Regione con il maggior numero di evasione scolastica, ricordiamo che viviamo nella Regione dove c'è una microcriminalità legata all'adolescenza e al mondo dell'adolescenza che è altissimo. Allora rispetto a questi temi ovviamente dobbiamo affrontarli partendo proprio dalla scuola e dare un supporto costante, duraturo con lo psicologo scolastico penso che è un inizio importante, qualificante anche per una Regione, una Regione che ha dimostrato di avere una certa sensibilità con l'istituzione della legge sullo psicologo di base, con l'approvazione in consiglio sulla mozione che abbiamo dato assistenza e lo stiamo facendo anche in modo concreto, un'assistenza psicologica alle donne e ai bambini provenienti dall'Ucraina. Ecco io penso che su tutti questi temi sono delle battaglie, delle iniziative che devono avere le giuste risorse anche da parte della Giunta per poter dare delle risposte concrete, durature e utili soprattutto al mondo della scuola.